Continuano gli sbarchi in Puglia, l'ultimo avvenuto due mesi e mezzo fa in cui aveva perso la vita una 32enne somala. Sono arrivati all'Alba, Castro, nel Salento, dopo aver attraversato il canale d'Otranto. L'imbarcazione da cui sono sbaccati i migranti è poi ripartita velocemente. Poche miglia più a sud, a largo di Marina Serra, fra cieli di Tricase, un'imbarcazione è stata individuata e bloccata. A bordo c'erano un greco e un albanese che sono stati fermati per essere sottoposti all'interrogatorio. Il sospetto è che si tratti dei due scafisti che hanno portato a Castro i migranti. Per inchiudare i due uomini e le loro responsabilità sarà necessario esaminare attentamente il natante di circa 7 metri e verificare la presenza a bordo di eventuali dispositivi che possano avere registrato la rotta. Importanti saranno anche le dichiarazioni delle persone rintracciate dai carabinieri e l'eventuale riconoscimento fotografico dei presunti scafisti. I migranti fermati nella prima mattinata sono 21, 16 uomini e 5 donne, di cui una minore, e si dichiarano di nazionalità somala, iraniana e siriana. Saranno condotti nel centro di primissima accoglienza a Don Tonino Bello di Otranto, dove il pool anti-immigrazione, composto da polizia, carabinieri, guardie di finanza e guardia costiera, avverà le indagini di rito. E intanto circa 400 migranti sono arrivati a Taranto la scorsa notte a bordo di bus provenienti da Reggio Calabria per essere ospitati nell'hotspot allestito in un ex parcheggio del porto. I migranti sono stati forniti del kit igienico e di beni di prima necessità. Dalle prime ore di questa mattina sono state avviate le operazioni di identificazione a cura della Polizia di Stato, presenti anche gli agenti della Polizia Locale, i carabinieri e i volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa. Si tratta del secondo arrivo nel nuovo hotspot. La procedura prevede che i migranti restino nel centro per un periodo che oscilla tra le 48 e le 72 ore per poi essere trasferiti in altri centri di accoglienza su tutto il territorio nazionale.